Musica Shemma Israel Adonai Eloheinu Shemma Israel Musica Dobbiamo dire con molta chiarenza che la domenica è il cuore del cristianesimo Non bisogna dimenticare che la domenica per eccellenza è proprio il giorno di Pasqua La domenica per eccellenza è il giorno di Pasqua Che è il giorno della risurrezione di Cristo Quindi della vittoria di Cristo sul male, sul maligno, sul male, sulla morte, sul peccato La nuova creazione La domenica è il giorno della nuova creazione Questa nuova creazione è l'umanità santa di Gesù Cristo Alla quale tutti noi parteciperemo Anzi già partecipiamo ora per grazia E poi di questa santa umanità parteciperemo per gloria E quindi la domenica Ma altro non è se non la commemorazione della Pasqua Le domeniche che si alternano durante il corso dell'anno Sono tutte attualizzazioni di questa domenica Che è il cuore del cristianesimo E cioè la domenica di Pasqua Allora è per quello che Il terzo comandamento ha un grande significato Perché ci porta al cuore del cristianesimo Alcuni di voi possono pensare Ma il cuore del cristianesimo non è l'incarnazione Non è forse dunque in un certo senso Il 25 marzo il cuore del cristianesimo Cioè quando Dio si è fatto uomo Indubbiamente il 25 marzo Garamice è una data chiave fondamentale Perché è proprio il 25 marzo Che si è realizzato il disegno di Dio Che è quello di farsi uomo Per elevare l'uomo alla dignità divina Quindi indubbiamente questa data splendida del 25 marzo Questa data che è così cara alla Vergine Maria La quale proprio a Lourdes nel giorno del 25 marzo Ha rivelato di essere l'immacolata concezione Immacolata perché doveva diventare madre di Dio E madre di Dio l'è diventata il 25 marzo Quando il verbo si è fatto carne Nel grembo della Vergine Maria Quindi indubbiamente il 25 marzo È il potremmo dire in sé Per sé la nascita del cristianesimo Perché il cristianesimo incomincia con Gesù Cristo Quindi ha inizio con l'incarnazione Data parte la festa più cara al cuore dei cristiani Non è neanche la Pasqua Neanche il 25 marzo Ma è il Natale Ed è il Natale Comunque Perché è in quella data Che Maria ha donato Cristo al mondo L'ha mostrato ai pastori L'ha postato ai magi L'ha mostrato al mondo E non c'è dubbio che questa data Del 25 marzo sia tanto cara Allo cuore del cristianesimo Però sotto il profilo Della fede Sotto il profilo della nascita della fede Sotto il profilo Del compimento della redenzione Cari amici Certamente il punto chiave È la domenica di Pasqua Infatti Nella domenica di Pasqua Possiamo dire Si è compiuta la redenzione Perché è vero che il 25 marzo Il verbo si è fatto carne È vero che il 25 dicembre Maria ha donato Si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria È vero che il 25 dicembre Maria ha donato Cristo al mondo Ma l'opera della redenzione Che è iniziata con l'incarnazione Si è compiuta La domenica Il mattino di Pasqua Con la vittoria sul male Sulla morte E con questa nuova creazione La nuova creazione È la santa umanità di Cristo Che è quella pienezza Dalla quale tutta l'umanità E tutta la creazione riceve Riceve la grazia E riceve la gloria Allora Ecco perché cari amici È la Pasqua Il giorno fondamentale Per quanto riguarda La fede cristiana Perché la Pasqua segna Il compimento del progetto di Dio Che è appunto La nuova creazione Che è dunque Che è il riscatto Della condizione umana Cioè È indubbiamente La mattina di Pasqua Che la natura umana Che è quella di Gesù Cristo Viene riscattata Viene trasfigurata Viene glorificata E diventa Fonte di salvezza Di grazia Di luce Di gloria Per tutti noi Ecco perché dunque Cari amici È la Pasqua La Pasqua Il cuore del cristianesimo Perché in essa C'è l'epifania Di Cristo Glorificato Perché c'è la vittoria Di Cristo C'è il riscatto Della natura umana E quindi I cuori si dilatano Alla gioia E alla speranza E Allora Se il 25 Marzo È Il momento Diciamo così In cui Chiave della storia Perché inizia La redenzione Se il 25 Dicembre È così caro Al cuore dei cristiani Perché Cristo Appare al mondo Il salvatore Appare al mondo È certamente Il giorno di Pasqua Che si manifesta La grandiosità Del impieno divino È data parte Cari amici È dal giorno di Pasqua Che la fede Acquista la sua certezza Perché se Cristo Non fosse risorto Vanna sarebbe La nostra fede Dice Paolo Vanna sarebbe La nostra predicazione Quindi è del giorno di Pasqua Che Cristo Si manifesta Si manifesta Con Una forza Solare Manifesta La sua divinità Però Vorrei dire Che è sintomatico Cari amici Se voi ci fate caso Che questi tre Momenti chiave Della redenzione Cioè L'incarnazione 25 marzo La nascita E poi naturalmente La settimana santa O il mistero pasquale Che è appunto Il triduo Giovedì Vene di sabato E domenica Triduo Perché Perché si chiama triduo Perché per noi Perché la notte Del sabato santo È già la domenica Insomma Perché la domenica Incomincia Sempre la vigilia E bene Cari amici Se voi ci fate caso Questi Questi che sono gli eventi chiave Della redenzione Hanno una grande Evidenza Nel nuovo testamento Nel nuovo testamento È proprio l'incarnazione Il 25 marzo L'annunciazione Il Natale La passione E la morte E la risurrezione Di Cristo Il mistero pasquale Hanno una grande Evidenza Nelle sacre scritture Allora È con grande Gioia Certamente È un grande Gioia Cari amici Che noi Ci accingiamo A affrontare Questo terzo Comandamento Perché Il proposito Che ci Cioè il fine Che ci siamo proposti In questo terzo Comandamento Cari amici Non è soltanto Il richiamo Il richiamo Dell'obbligo Di partecipare Alla messa La domenica O l'obbligo Del riposo Domenicale No? È qualcosa Di molto più grande Cioè l'obiettivo Che ci siamo proposti È molto più grande E cioè scoprire Il giorno del Signore Scoprire la domenica Questo è l'obiettivo Che ci siamo proposti Naturalmente Su questa strada Ci siamo stati aiutati Moltissimo Non soltanto Dal catechismo Dalla Chiesa Cattolica Che noi seguiamo Con molta attenzione In tutte queste nostre catechesi Ma anche Dalla stupenda Lettera apostolica Di Giovanni Paolo II La Dies Domini Il giorno del Signore Dedicato dal Santo Padre Alla Domenica Ecco noi poi Qui a Radio Maria Abbiamo imparato Ad apprezzare Il valore della Domenica Il valore anche Della santificazione Della Domenica Il valore anche Del riposo Domenicale E proprio anche Del messaggio Della Beata Vergine Maria Nell'apparizione Alla Salette Dove certamente La Madonna Ha detto cose meravigliose Per quanto riguarda La santificazione Della Domenica C'è tutta una filosofia Riguardo alla Domenica Che noi esporremo Cioè La Bibbia La Bibbia Ha offerto al mondo La settimana Cioè la settimana È un'invenzione biblica Non dimentichiamolo La settimana È un'invenzione biblica Perché non esiste La settimana Nelle altre culture Una settimana Così concepita Come lo concepisce La sacra scrittura Non esiste Nelle altre culture Cioè il tempo Suddiviso In sei giorni Mentre il settimo È un giorno Di riposo Questo è una grande Non so come Certamente Un dono di Dio Ma sotto un profilo Puramente umano È certamente Uno dei grandi doni Che il popolo ebraico Ha fatto l'umanità Cioè questa suddivisione Del tempo In sei giorni Col settimo giorno È un giorno di riposo E il popolo ebraico Ha elaborato Questa settimana Attribuendolo a Dio Che avrebbe creato Il mondo In sette giorni Naturalmente Questi sette giorni In sei giorni Scusate Sono uno schema Liturgico Non è che Dio Perché Dio Non poteva creare Il mondo in sei giorni Perché a quei tempi Non esistevano Neanche i giorni No? Santa Agostino Parla di sette epoche Comunque Sono schemi liturgici Che ci aiutano A scoprire Una grande verità Cioè che la creazione È stata realizzata Gradualmente da Dio Quindi c'è una storia Della creazione Non è che Dio Abbia creato il mondo In un attimo Tutto il mondo Così com'è C'è un certo Evoluzionismo Anche nella Bibbia Ma un evoluzionismo Naturalmente Di matrice religiosa E cioè Il mondo È stato creato Gradualmente Nel senso Non nel senso Che la materia La materia È stata creata Tutta in un momento Però La conformazione Della materia Allo sviluppo della materia È venuto Nel tempo Ebbene La grande intuizione biblica Qual è stata? La grande intuizione biblica Noi parliamo di intuizioni Ma in realtà È lo spirito santo Che illumina Gli autori umani Della Bibbia È stata quella Di dividere Il tempo In sei giorni Più uno È una intuizione Di una profondità Incredibile Cari amici Perché? Perché è lo schema stesso Della vita umana I sei giorni Della settimana Rappresentano La vita umana Nel tempo Che è una vita fatta Di fatica Di lavoro È una vita fatta Di sacrifici È una vita fatta Di impegno Però il settimo giorno Si riposa È il giorno del Signore Ebbene Questa settimana Dove Per sei giorni Si lavora E il settimo giorno Si riposa E si celebra La gloria di Dio È La visione Religiosa Della stessa vita La vita umana Non è fatta Di sei giorni Non siamo degli animali Che sono rinchiusi Nel ciclo finito Della materia E quindi dopo Il nascere Il faticare Il sudare L'ammarare Se il morire Scompaiono La vita umana È fatta Certamente Da sei giorni Di fatica Di lavoro Ma poi La vita umana Entra nel settimo giorno Cioè Entra nell'eternità Di Dio Quindi lo schema Di sei giorni Più uno È la rappresentazione Della vita Della vita umana Che è formata Da sei giorni Nel tempo E poi Con la morte Si entra Nell'eternità Il settimo giorno Ecco perché È una bestemmia Sotto il profilo Anche della cultura Il tentativo Della civiltà moderna Di eliminare Il giorno del Signore Il settimo giorno E di offrire Riposi In un giorno qualsiasi Perché sarebbe Come dire Che la vita umana È formata Da sette giorni Lavorativi E quindi È rinchiusa Nel ciclo Finito Dalla materia Con la morte Finisce tutto Non c'è lo sbocco Nell'eternità E giustamente Quindi è stato detto Da parecchi Studiosi Che La settimana Con sei giorni Lavorativi Più la domenica Cagione del Signore È certamente Il capisaldo Uno dei capisaldi Una delle fondamenta Della nostra civiltà Che dobbiamo difendere A tutti i costi Allora Dopo questa introduzione Affrontiamo cari amici Il primo paragrafo Per chi ha il mio libro I dieci comandamenti Siamo a pagina 59 Il primo paragrafo Intitolato La domenica Il cuore del cristianesimo Vi ho già spiegato Per quale motivo Perché la domenica Perché il cuore del cristianesimo È la Pasqua Che è il compimento Della redenzione La domenica Altro non è Se non Se non Appunto La La celebrazione Della Pasqua Che si fa ogni settimana Allora Vediamo allora Questo primo paragrafo La domenica A cuore del cristianesimo Il terzo comandamento Scrivo Va bene al di là D'un generico obbligo Morale Di rendere culto a Dio Che la creatura Ha nei confronti Del creatore Cioè Il settimo comandamento Va bene al di là Di andare a messa La domenica Esso Cioè Il terzo comandamento Nella religione ebraica Come in quella cristiana Ha un valore tutto particolare Perché riserva un giorno Della settimana Completamente al Signore Quindi La domenica È il giorno Da dare al Signore Che il Signore Se l'ha riservato Per sé La Madonna dice addirittura La Salette Mi sono riservato un giorno Non me lo vogliono dare Gli abito? Ricordati Dice Il libro dell'Esodo Del giorno Del sabato Per santificarlo Sei giorni Faticherai E farai ogni tuo lavoro Ma il settimo giorno È il sabato In onore del Signore Il tuo Dio Non farai alcun lavoro Naturalmente Come sapete Il cristianesimo Ha sostituito il sabato Con la domenica Che era il primo giorno Della settimana ebraica Perché appunto Gesù È risorto Il primo giorno Dopo il sabato E quel giorno lì È stato chiamato Domenica Cioè il giorno del Signore Dominus Vuol dire Signore Togliendo all'ebraismo E al cristianesimo Il sabato O la domenica Non si eliminerebbe Qualcosa di accessorio O di ornamentale Ma si colpirebbero Le fondamenta Su cui è appoggiata La stessa professione Di fede Spesso ci si chiede Con giusto stupore E ammirazione Come mai Come abbia mai potuto L'ebraismo Conservarsi Intatto e vitale Nel corso dei millenni Pur essendosi Le varie comunità Radicate Nelle più diverse parti Del mondo Senza più avere Quel punto di riferimento Che era nel tempio Di Gerusalemme L'autorità sacerdotale A questo interrogativo Si risponde Che è stata L'osservanza del sabato L'elemento Che ha consentito Alla religione ebraica Di navigare Fra i marosi Agitati della storia Senza mai perdere La sua identità originaria Cioè è stato il sabato L'osservanza del sabato Che ha tenuto Uniti per tanti secoli Gli ebrei dispersi Nel mondo In un passaggio epocale In cui Nei paesi Di tradizione cristiana Il tarlo Della secolarizzazione Arriva persino A corrodere L'impianto biblico Del tempo Riducendo la domenica Un giorno come gli altri È assolutamente necessario Che i cristiani Prendano coscienza Dell'importanza fondamentale Del giorno del Signore Come struttura portante Della loro fede Una società Che perdesse la domenica Avrebbe completato L'espulsione del cristianesimo Fin dalle radici E sarebbe ritornata Alla forma più radicale Di paganesimo Ecco perché È molto importante Difendere la domenica Come giorno del Signore Ed è molto importante Anche Difendere la domenica Come giorno di riposo Per tutta la società Anche per i non cristiani Il cristianesimo Il cristianesimo Non è una religione Naturalistica Legata ai cicli Sempre identici a se stessi Del tempo cosmico Come ad esempio Lo sono l'induismo Il buddismo Ma è una religione Incarnata nella storia Il tempo inizia Con l'atto creatore Di Dio E questa è molto importante Questa congestione Cristiana del tempo Per il cristianesimo Il tempo È un inizio Alla fine Non è una ruota Che gira intorno A se stessa Non è un serpente Che si morde la coda Come noi vediamo Nei tempi hindù Il tempo Nell'ebranismo Del cristianesimo Ha un inizio Una fine L'inizio È quando Dio Crea Tutte le cose Traendole da nulla Poi il tempo Ha il suo centro Nella visione cristiana Nell'incarnazione E nella resurrezione Di Cristo Infine si conclude Con la sua venuta Nella gloria E col compimento Del regno di Dio In questo quadro La domenica È un momento essenziale Irrinunciabile Perché è in strada Connessione Con il mistero cristiano Che è la resurrezione Di Gesù Cristo Quindi la domenica È il cuore Del cristianesimo Perché è La In stretta connessione Con la Pasqua Che appunto È il cuore stesso Del cristianesimo Perché è il momento Della resurrezione Di Cristo È il compimento Della redenzione La domenica Infatti Il giorno del Signore Dice Giovanni Palosecondo Nella sua enciclica Dies Domini La domenica Il giorno del Signore In greco si dice Chiriake emera Il latino Dies Domini Dies Dominica In italiano Il giorno del Signore Dice Giovanni Palosecondo È la Pasqua Della settimana In cui si celebra La vittoria di Cristo Sul peccato E sulla morte È il compimento In Lui Della prima creazione E l'inizio Della nuova creazione È il giorno Della vocazione Adorante E grata Del primo giorno Del mondo È insieme La prefigurazione Nella speranza Operosa Dell'ultimo giorno Quando Cristo Verrà nella gloria Saranno fatte Nuove tutte le cose Qui la domenica È Ricorda il giorno Della prima creazione Ricorda il giorno Della seconda creazione Che è la risurrezione Di Cristo Preannuncia Il giorno ultimo Quando tutti Parteciperemo Della risurrezione Di Cristo Questo Giovanni Paolo II Nella sua lettera Apostolica Dies Domini Essendo La risurrezione Di Cristo Il dato originario Su cui poggia La fede cristiana È chiaro che la domenica In quanto Pasqua Settimanale Si colloca al centro Del mistero del tempo E costituisce L'asse portante Della storia Per i cristiani Essa Non è soltanto Il giorno del Signore Ma è il Signore Dei giorni Come afferma L'omelia Ad un autore Del quarto secolo Un autore ignoto Cristiano Non è soltanto Il giorno del Signore Ma è il Signore Di tutti i giorni In questa luce Si manifesta In tutto il suo valore E la sua incomparabile bellezza L'impegno cristiano Di santificare Tutta la domenica Il cristiano Non può farsi catturare Dalla mentalità Di vivere Il fine settimana Come tempo Di semplice riposo O di evasione Tantomeno poi Deve lasciarsi prendere Anche in quel giorno Dall'ingranaggi Del lavoro O dalla febbre Degli acquisti In questo modo Finirebbe Per rinchiudere Il tempo Della sua settimana Dice il Papa In un orizzonte Tanto ristretto Che non li consentirebbe Più di vedere Il cielo Bellissimo Quindi Quando la domenica Uno si fa prendere Dalla pura evasione Oppure dall'ingranchi Del lavoro Ancora O dagli acquisti Rischierebbe Di rinchiudere L'orizzonte Della sua vita In un ambiente Così ristretto Da non vedere più Il cielo Egli Cioè specialmente Il cristiano Deve prendere coscienza Che la domenica È un giorno Che Cristo Si è riservato Per sé E che Gli deve Essere Donato La riscoperta Di questo giorno È una grazia Da implorare Affinché i singoli E le comunità Lo santificano Con la partecipazione All'eucaristia E con un riposo Ricco di gioia Cristiana E di fraternità E quindi Caramici Tutta la nostra Catechesi Prossima Che si svilupperà Sul Sul terzo comandamento Sarà Tutto orientata A farci scoprire La bellezza Del giorno del Signore E come vivere Questo giorno In modo gradito Al Signore E come vivere